La Marina Militaria Italiana è intervenuta ieri a nord di Cipro in difesa di due pescherecci italiani aggrediti da una decina di imbarcazioni turche. Il peschereccio Giacalone ha riportato lievi danni. Il racconto dell'armatore Luciano Giacalone. Sono stato avvertito da un altro mio peschereccio, il Francesco Giacalone, che mi faceva da ponte e mi avvertiva che il migliore Giacalone aveva un'estavamento dei problemi perché era accettiato da una decina di parche turche che lavoravano lì in zona. E hanno cominciato a tirare delle pietre e dei pezzettini di piombo. Preoccupati pescatori italiani tirano le reti a bordo, nonostante fossero in acqua internazionali. E una volta tirate le reti a bordo li hanno pure speronati, hanno provato a speronarli, a traccarli, cioè facendo capire che volevano salire a bordo. A questo punto interviene la Marina Militare Turca, sollecitata dalla Capitaneria di Porto di Roma, avvertita dall'armatore Giacalone. Come italiani abbiamo mandato un elicottero, la Marina Militare ha mandato un elicottero. Ma nonostante tutto i turchi, le parti turchi, non desistevano di niente e hanno costretto il peschereccio ad andare via da quella zona. Il 3 maggio il peschereccio Giacalone aveva subito un tentativo di abbordaggio da parte dei libici. È la guerra del pesce che ormai interessa ampi tratti del Mediterraneo e l'Europa fa finta di non vedere.